Sabato 21 maggio 2022, buona giornata amici e buon weekend per questo fine settimana con un tempo assolato, quindi ci sarà tempo anche per andare al mare, anzi ci sono le condizioni propizie per assaporare il sole e la spiaggia. Ebbene diamo un'occhiata subito al santo del giorno e vediamo come oggi sono più di uno i santi che si venerano. Innanzitutto è San Cristoforo Megallanes che viene venerato insieme a 24 compagni. Furono tutti uccisi nel clima di persecuzione contro la chiesa che ha tormentato la storia messicana all'inizio del ventesimo secolo. Fu fucilato San Cristoforo ma non prima di avere confortato i suoi compagni erano tutti sacerdoti che si erano formati nel seminario da lui fondato a Guadalajara. E veniamo alle condizioni del tempo, vediamo che oggi il sole è sorto alle 5.35 e termonterà alle 20.34. C'è ancora l'anticiclone e ben saldo sulla nostra regione, continua dunque la fase stabile, cieli sereni o leggermente offuscati da nubi molto alte, le massime salgono ancora fino a 31-32 gradi. Insomma siamo proprio con le temperature estive. Bene, ci ho detto apriamo i giornali e vediamo subito la pagina di Fano del Corriere Adriatico. Eccola qua, il titolo di apertura è lo stesso poi che appare sul resto del Carlino perché ieri l'amministrazione comunale ha presentato il calendario analitico degli eventi dopo aver presentato quello sintetico, l'anteprima insomma di tutto il programma che verrà realizzato nell'anno in corso. E c'è anche la grande novità, la grande novità è quella del ritorno della Corsa delle Bighe nell'ambito della Fano dei Cesari. Senza la Corsa delle Bighe questa manifestazione aveva perso molto della sua attrattiva. Ebbene è questo lo spettacolo che più attrae la gente, anche se è un po' uno spettacolo un po' artefatto, diciamo la verità, però insomma con un spirito, un senso di realismo che fa veramente rivivere l'agonismo dell'antica Roma. Torna dunque la Corsa delle Bighe, gli eventi rilanciano Fano, date rilevanti anche per passaggi Brodetto Fest e Gets che festeggiano quest'anno i loro anniversari. Abbiamo passaggi 10 anni, il Brodetto Fest festeggia 20 e il Gets che è il più antico 30, 30 anni, compiono appunto 10, 20 e 30 anni. Ebbene poi tutte le altre manifestazioni ritornano alle feste dei quartieri, ritorna in giro per fam, il Carnevale si festeggerà in due momenti, a giugno quello dei bambini e poi in agosto quello del corso mascherato, il corso dei cari allegorici che si terrà a Sassonia, insomma prima al centro storico poi a Sassonia e via via tutte le manifestazioni. Con la novità che forse la Fiera di San Bartolomeo che si svolge il 24 agosto quest'anno avrà una location nuova, probabilmente si svolgerà tra il Porto e il Lido anziché su Viale Adriatico come tutti gli anni. Comunque programmi, date e manifestazioni oggi sui giornali. E veniamo alle altre notizie. In campo 10 associazioni per ripulire il Metauro. Le sponde trasformate in un ricettacolo di rifiuti e sono sempre più i cittadini che si prestano a questo servizio, un servizio fatto gratuitamente. Si indossano dei guanti, si passa una mattinata a raccogliere plastica, ferri, tutto ciò che il mare oppure la maleducazione della gente riversa nei boschi e sulle spiagge. Ebbene, questa volta si ripuliscono le sponde del fiume Metauro. E chi lo fa? Lo fa la Lega Ambiente e poi l'Argonauta, Casa Archilei, Puliamo Fano, Lupus Infabula, Forbici, Lafiab, Pronatura, Lafano Unimar e tutti quanti uniranno gli sforzi per ripulire le sponde. E poi ieri pomeriggio si è tenuto un'importante iniziativa organizzata dal Lions Club di Fano. Si è fatto il punto sulla vicenda dell'Esipo. Molte le personalità intervenute nella sala della Fondazione della Carifano, alcune in video, altre in presenza. C'era anche l'ex Ministro della Cultura, Buonisoli, che aveva intrapreso veramente un'azione determinata per così riavere l'Esipo. Sfortunatamente non ha fatto in tempo a portarla a termine. C'era poi l'Avvocato dello Stato, Lorenzo Dascia, che ha fatto il punto sulla situazione legale, che sappiamo in questo momento giacere alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, cui il Getty Museum ha fatto ricorso dopo la sentenza lui sfavorevole decretata dal Tribunale di Pesaro, dalla Cassazione, insomma a tutti i livelli che poi si sono seguiti. E poi c'è una rogatoria internazionale che dovrebbe spingere le attualità americane appunto a riportare in Italia l'Esipo. Sono due azioni concomitanti, ma i tempi sono ancora lunghi. Ci vorrà probabilmente fino all'autunno per definire il dibattimento davanti alla Corte Europea e poi ancora un anno prima di ricevere la sentenza. In Co però sono tutti un po' ottimisti e speriamo che questo ottimismo si trasformi in una bella realtà, almeno per quanto riguarda Fanno. Sono stati poi trattati tanti e altri aspetti, ma ora non abbiamo il tempo di parlarvene. I dossi frenano la velocità, adesso ostacolano gli autobus. Gli autisti intervengono sul caso di Ronco San Baccio, dove è stata messa in sicurezza la strada che attraversa il centro abitato con la realizzazione di due rialzi dell'asfalto. Ebbene, secondo gli autisti, questi due rialzi rischiano di toccare il sottofondo degli autobus e quindi sarebbero loro stessi pericolosi. Insomma, staremo a vedere. Invece un intervento opportuno è quello che è stato realizzato dall'amministrazione comunale sugli attraversamenti pedonali di varie parti della città che sono stati ben illuminati. Messi in sicurezza anche due passaggi in via Papiria. Un piano avviato sei anni fa che sta procedendo. Sono ora 48 gli attraversamenti pedonali illuminati. Un percorso avviato sei anni fa assecondando una progressione costante via via, mano a mano un po' tutti gli attraversamenti più pericolosi si stanno illuminando. E veniamo ora all'entroterra Monte Maggiore al Metauro la marijuana in una serra interrata è stata individuata dalle forze dell'ordine sono stati sequestrati sei chili e settecento grammi di marijuana scatta l'arresto la coltivava Monte Maggiore su un terreno sottoposto a confisca un 26enne albanese reclutato a Rimini era un vano mimetizzato nel paesaggio ma non è sfuggito all'attenzione degli impirenti. E poi una bella iniziativa che parte da Fossombrone The Greenliners in Normandia il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni ha salutato i protagonisti della rievocazione storica The Greenliners che anche quest'anno sono stati invitati in terra francese alle celebrazioni del settantotesimo anniversario dello sbarco in Normandia. Ebbene c'è un filo diretto insomma tra la valle del Metauro dove si scontrarono in modo molto animato inglesi tedeschi americani canadesi insomma tutti gli alleati nel corso della seconda guerra e quindi questo ricordo di quanto è avvenuto localmente va anche nelle spiagge dove appunto molti morirono per frenare appunto l'invasione dei nazisti The Greenliners che anche quest'anno sono stati invitati in terra francese appunto a questa rievocazione andranno in Normandia lungo dove tutto dove lungo tutti gli 80 km di costa nel giro nel durante il 44 videro appunto tanti combattimenti la spiaggia di Oman insomma tutte le spiagge che poi hanno visto gli episodi più cruenti e veniamo alle altre notizie vediamo a Senigallia dove i vigilantes vigiliranno sulle spiagge in quod specialmente di notte scatta la Movida aperti i bar fino alle 3 c'è stato un accordo tra Balneari e Comune sui controlli che verranno organizzati e stasera dal mercato alla spiaggia ci sarà la prima deroga sugli orari dunque il prolungamento delle attività che appunto eserciscono la loro apertura durante le ore notturne sulla spiaggia sarà prolungata l'accordo tra Balneari e Comune prevede che il servizio di vigilanza a carico dei primi potrà coinvolgere tutti gli stabilimenti in modo particolare contro i vandali le cui imprese sono già state fatte notare sono state fatte vivi durante i primi giorni di questa estate anticipata che caratterizza le spiagge delle nostre coste veniamo ora alle pagine pesaresi del Corriere Adriatico dove l'obiettivo dell'amministrazione uno dei tanti obiettivi non diciamo l'obiettivo uno dei tanti obiettivi dell'amministrazione comunale è quello di liberare il piazzale primo maggio da una banda di giovinastri che staziona in maniera diciamo così trasgressiva in questa area l'obiettivo liberiamo piazzale primo maggio ostaggio dei bivacchi dal quartiere ai comitati una serie di azioni per restituire decoro alla zona ebbene che cosa accade in questo posto dietro la chiesa di Sant'Agostino commentano alcuni residenti da mesi il parchetto è ormai letteralmente ostaggio di un gruppo di soggetti giovani senza fissa dimora ma quasi sempre con in mano birre o bottiglie di alcolici soprattutto i più giovani del gruppo arrivano al parco fin dal mattino e non solo iniziano a bere ma chi esce per la spesa o per raggiungere appunto i negozi si ritrova a sentire schiamazzi urla qualche volta anche le liti oppure situazioni al limite della decenza insomma è una area da bonificare censimento del verde sono sei i quartieri green il patrimonio arboreo urbano aspes sigla un accordo con la politecnica aspes e università politecnica delle marche un binomio vincente in questo caso per contribuire al percorso di formazione dei giovani laureandi e poi ad agevolare il loro ingresso nel mercato del lavoro insomma un'azione propedeutica al futuro di questi giovani un progetto da 28 milioni di euro domanda per il PNRR per realizzare un superacquedotto lato partecipa al bando ministeriale supportata da marche multiservizi il presidente Ciccolini per il grande invaso andiamo avanti con lo studio scientifico un grande invaso che possa contribuire anche a risolvere il problema della siccità un problema che ormai incombe non soltanto durante la stagione estiva ma anche nella stagione invernale quando le piogge si fanno sempre più rare e poi il Corriere Adriatico oggi evidenzia ancora il problema degli asili estivi asili nido che scuole materne che hanno evidenziato un numero inferiore a quello delle richieste nidi estivi un flop 110 bambini esclusi dalla graduatoria e sono 110 famiglie che quest'estate si ritroveranno con il problema di dove sistemare i loro figli se entrambi i genitori lavorano l'opposizione va dunque all'attacco del comune sono troppo pochi i centri a disposizione Marchioni e Andreolli famiglie in difficoltà servono risorse per altre strutture occorre realizzare dicono appunto i consiglieri comunali di opposizione altre strutture cambiamo argomento e parliamo di api parliamo di api perché ieri si è tenuto alla giornata mondiale dedicata alle api un insetto prezioso un insetto che determina l'80-90% delle impollinature delle aree verdi e quindi senza le api i fiori oppure le essenze oppure tutto ciò che anima il mondo vegetale non può esistere morirebbe quindi occorre tutelare sempre più questo insetto preziosissimo sia per quanto produce sia per quello che realizza un quartiere capitale della cultura a questo punto è trebbi antico a protezione delle api appunto ed è stato definito un quartiere capitale della cultura perché questo progetto che realizza trebbi antico si inserisce benissimo nel progetto con Pesaro capitale della cultura 2024 e lo ha sottolineato ieri il vice sindaco Daniele Vimini incrocio di Selva Grossa il grande caos nessuno rispetta il divieto di svolta un problema di traffico importante il comitato di Borgo Santa Maria è in una situazione molto molto pericolosa per il comitato questo incrocio ed è che è stata chiesta una rotatoria si tratta dell'incrocio di Selva Grossa svolta verso Pesaro vietata però nessuno lo rispetta e quindi queste deroghe possono causare gravi incidenti occorre intervenire al più presto fatto scelte corrette per i pazienti meno per la mia carriera politica lo ha dichiarato l'ex governatore della regione Marche Ceriscioli che ieri ha preso parte ad un dibattito che si è svolto a Villa Fastigi un incontro del PD del Partito Democratico sulla sanità secondo appunto Ceriscioli le scelte fatte a suo tempo erano quelle giuste però insomma lui ne ha pagato lo scotto a questo punto vediamo la pagina di Vallefoglia a lezione di compostaggio istruzioni contro lo spreco è una iniziativa avviata a Monte Labate per i bambini della scuola Montessori ebbene educare i bambini in tenera età vuol dire inculcare loro un senso etico che poi preserveranno anche da adulti almeno così si spera ad Urbino invece scatta nella notte l'allarme ladri entrano nel superstore Conad scatta l'allarme ma rubano 7.000 euro fanno in tempo appunto agendo velocemente a essere più lesti dell'intervento dei soccorritori due incappucciati armati di piccone insomma non sono andati per la leggera sono entrati nel supermercato e hanno arraffato i contanti indagano i carabinieri e c'è anche l'ipotesi di un basista ed ora passiamo al resto del Carlino dove l'apertura come abbiamo anticipato è dedicata alla presentazione del calendario degli eventi estate a tutto gas tornano le bighe dei Cesari un calendario di eventi che mette alle spalle la pandemia finalmente si ritorna un po' ai vecchi tempi quando tutto l'estate ma anche i mesi pre e dopo estate erano pieni di manifestazioni e si comincia da subito perché già a maggio molto è stato fatto poi a giugno si parte alla grande sarà anche la stagione del carnevale con due appuntamenti in programma ebbene è stato evidenziato questo calendario ieri un calendario stampato poi in un formato veramente gigantesco non è tascabile questo calendario però insomma evidenzia molto molto bene le manifestazioni che andranno a essere realizzate dicevo lo ha presentato l'assessore agli eventi Etienne Lucarelli insieme al sindaco Massimo Seri e qui vediamo una bella fotografia ovviamente della manifestazione più attesa che è la corsa delle bighe inserita nell'affano dei Cesari e ancora si parla di questa esclusione di alcuni esponenti politici da un convegno organizzato dal partito socialista qualcuno ha fatto le sue rimostranze ora dice no pur essendo stata invitata anche Carla Luzzi che è capogruppo della lista civica in comune la maggioranza sempre più spaccata qualcuno fa il permaloso insomma tu non mi hai invitato io adesso non ti considero più insomma questi sono un po' liti che lasciano un po' il tempo che trovano ovviamente più importante la sostanza di queste cose all'estato un 26enne albanese aveva 6 chili e mezzo di marijuana nascosta in casa un deposito piuttosto ampio ma ben occultato 100 metri quadri lo aveva ricavato in un terra pieno adiacente ad un'abitazione confiscata sita in via Canaletta a Montemaggiore al Metauro comunque è stato individuato un borgo ha effetti speciali waterfront stile Romagna il sindaco Massimo Seri illustra il futuro di Sarsonia e poi annuncia attrazione per chi viene da fuori Fano come avvenuto per Rimini e Riccione ed ora passiamo a Pergola vediamo come i tre consiglieri regionali del Partito Democratico attaccano la Giunta invitando appunto la Giunta regionale invitando l'esecutiva a non escludere Pergola dalla strategia nazionale per le aree interne e il monito appunto dei consiglieri regionali Mangialardi Biancani e Vitri che ieri hanno depositato una interrogazione sul tema sottoscritto dall'intero gruppo del Partito Democratico e poi evidenziamo ancora il progetto il megaprogetto urbinate per l'acquedotto lato vuole attingere dai fondi del PNRR e mette sul tavolo un piano di ben 28 milioni di euro una cifra veramente consistente per quanto riguarda appunto questa infrastruttura a Ferminiano la carica dei 500 per la pietralata MTB Race una bella gara sportiva una bella gara sportiva che ha tirato l'interesse di tanti tanti partecipanti da diverse regioni d'Italia partenza dall'ex campo sportivo di Ferminiano in 42 chilometri si farà un dislivello di 1600 metri atleti appunto da mezza Italia una gara che vede coinvolti ciclisti divisi per categoria ma ciclisti di grandi livello e talento la difficoltà è medio alta anche contratti estremi insomma ci vuole uno sforzo fisico considerevole il percorso è di 42 chilometri circa passaggi tecnici impegnativi e la gara torna domani con partenza alle 9 e 30 nella area dell'ex campo sportivo vediamo anche qualche notizia di Pesaro sul resto delle Carlino si parla di centri estivi comunali veramente il caos è servito a causa della differenza tra l'offerta e la domanda l'offerta è carente abbiamo visto prima 110 bambini 110 famiglie resteranno fuori ma non solo perché i 110 sono quelli sono i bambini dalla fascia d'età 0-3 anni e poi ce ne sono altri 250 che resteranno fuori dalla fascia d'età da 3 a 6 anni Marchionni interviene dice l'avevamo detto insomma l'amministrazione comunale colta in fallo e sarà un problema appunto per le famiglie spiagge libere il comune cerca di riportarci i lettini come ha fatto con la pandemia anche se la pandemia si è attenuata sulle nostre coste l'assessore intende riproporre l'esperimento effettuato ai tempi del covid degli anni scorsi le attrezzature in 5 spazi precisi fino a sottomonte c'è però chi dice no queste attrezzature saranno riposte sono lettini sono riposte in 5 tratti di spiaggia libera compresi nelle zone tra fiorenzuola baia flaminia e sottomonte sono queste un po' le zone che verranno occupate con delle attrezzature che renderanno più agevole la permanenza dei bagnini e poi dal covid alla guerra un'infermiera in prima linea cura i pazienti feriti e amputati dalle bombe si tratta di Alessia Gaudenzi 36 anni che è a capo di un reparto di rianimazione del treno ambulanza di medici senza frontiere in Ucraina è una intervista che viene rilasciata sulle drammatiche esperienze che vive questa infermiera insomma è difficile poi eseguire non solo raccontare ma eseguire questo compito con effetti altamente drammatici veniamo ad uno sciopero che si è svolto ieri e che ha coinvolto anche diversi lavoratori pesaresi si tratta dei lavoratori che operano nel settore delle consegne per noi è un incubo c'è stato un boom e non riusciamo a starvi dietro protestano i dipendenti della ditta SDA un'essitine davanti alla sede di strada dei cacciatori si lavora sempre più a parità di stipendio insomma i compiti sono aumentati le consegne sono aumentate noi non riusciamo a starvi dietro ma in fin dei conti poi la busta paga è sempre lo stesso ecco perché hanno derito alla sciopero nazionale che si è svolto poi anche in altre regioni che ha caratterizzato questa categoria veniamo alla cronaca aggredisce la moglie per strada arrestato due volte in due giorni era veramente incorreggibile si tratta di un cinquantotenne di pesaro che ha il divieto di avvicinarsi alla donna però un divieto che non rispetta ieri in piazzale primo maggio ha di nuovo incontrato la consorte iniziando ad insultarla insomma ha reagito veramente in maniera vehemente con graffi sputi botte lesioni si è rotolato a terra e solo l'intervento per caso di una pattuglia della polizia locale dei vigili urbani che passava in quel momento ha evitato conseguenze peggiori insomma è stato un episodio veramente eclatante e poi vediamo ancora a Tavuglia a Tavuglia invece vanno al bar e litigano e tirano fuori i coltelli uno addirittura nascondeva sotto la giacca che cosa un macete veramente è un'arma non solo di grosse dimensioni ma anche molto molto pericolosa e l'altro per difendersi ha preso un coltello che era lì sul bar e ha cercato di prenderlo all'impronta per fortuna non sono venuti poi a collutazione ma le minacce dei due contendenti uno col macete e uno con il coltello insomma ha creato molti timori e molta confusione all'interno dell'esercizio sono stati per fortuna bloccati denunciati e mandati sotto processo e questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la cronaca vediamo ancora qualche minuto per quanto riguarda lo sport oggi e sabato vediamo che Farroni alla vis la mia stagione migliore ha dichiarato il portiere dei Biancorossi che in questa stagione ha brillato in una delle peggiori difese dice il titolo determinanti certe sconfitte per 3 o 4 0 la Reggiana eliminata dai playoff vediamo anche qualche titolo che riguarda l'Alma Juventus Fano il Fano sta veramente preparando l'ultimo assalto la partita decisiva per evitare ulteriori confronti Traini Portodascoli da applausi il DS della squadra già salva un miracolo domani a San Benedetto Granata con tre dubbi di formazione il Portodascoli prossimo avversario del Fano domani ha ottenuto con un torno d'anticipo grazie al pareggio di Vasto 0 a 0 di domenica scossa la certezza matematica di restare in Serie D alla sua prima stagione in questa Serie insomma ancora un nuovo impegno per il Granata con un campionato che è stato un po' deludente dobbiamo dire perché insomma era già retrocessa l'anno scorso ed era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento alle 7 di lunedì e vi auguro ancora una buona giornata e un buon weekend grazie per l'ascolto a risentirci a rispetto a rispondạc per l'ascolto